prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace grazie l'ennesimo lutto per un mondo quello del red carpet che ha lasciato sgomenti milioni di fan sparsi per il mondo nessuno se lo sarebbe mai aspettato eppure la morte il più delle volte non da preavviso stroncando esistenze in un modo brutale e lasciando un dolore in mane in coloro che hanno amato il proprio caro e che non riescono ad accettare una simile tragedia stavolta a perdere la vita è una bellissima star di origini sudafricane modella e attrice di successo si tratta di ciao bideen 32 anni e la notizia del decesso che ha lasciato sotto shock i fan è stata lanciata dal deadline chiarendo che la star si è spenta a new york per un malore improvviso classe 1990 nata a cape town il 5 febbraio aveva iniziato la sua carriera come baby modella a soli sei anni comparendo come modella su moltissime copertine e riviste di moda il suo approdo nel mondo del cinema è arrivato anni dopo come protagonista dei film sudafricani spade del suo sequel nel 2013 spade 2 oltre che in death race 3 chubby era redolce di interpretazione in triangle of sadness vincitore della palma d'oro a can dove ha recitato accanto ad attori come harris dickinson e woody harrelson a Grazie a tutti.